A tutti i ragazzi del vostro Paolo Inter, un bacione da parte mia. Allora, comunicazione importante, domani, domenica, domenica 6 giugno, alle ore 16.30 verso 17 farò una live per parlare un po' della nostra Inter, affrontando vari argomenti, il mercato, il discorso degli esuberi, che sembrerebbe quasi, diciamo che la cessione sembra quasi imminente, sembra che si siano accordati l'Inter e il Paris Saint-Germain, penso su una cifra sui 70 milioni, e poi parliamo d'altro, parliamo di tante cose, parliamo appunto della situazione della nostra Inter e del mercato che sarà un po' un'incognita, non sappiamo chi potrà arrivare e chi partirà, una cosa è certa, sicuramente ci saranno più cessioni che arrivi, questo è poco per sicuro, ma lo sapete poi, le motivazioni ve le ho elencate anche in maniera abbastanza esaustiva nei miei video precedenti. Niente, vi invito tutti al domani sul mio canale, passate, parliamo di Inter, alle 16.30, 16.45, vi aspetto, vi aspetto di tanti, un bacione dal vostro Paolo Inter, e a domani. Ciao a tutti ragazzi, e sempre forza Inter, ciao.